Una grande festa per oltre 300 bambini arrivati nel Palazzetto dello Sport di Via Giovinazzo a Molfetta per la prima edizione di Giochi in Salute. La manifestazione dedicata ai bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari della città organizzata dal comune di Molfetta nell'ambito del progetto della rete nazionale La Città Sana dei Bambini. Organizzata in collaborazione con Scout Gesci e Masci, Scuola Alberghiera Ipsar di Molfetta e la Lugateca Tutti Giù per Terra. Una festa di colori e di divertimento in cui non ha fatto mancare la sua presenza nemmeno il sindaco Antonio Azzollini che accompagnato dall'assessore alla socialità Luigi Roselli ha voluto portare il suo saluto ai tanti bambini arrivati. Alla fine per tutti loro merenda a base di Nutella, la prelibata cioccolata che Antonio Azzollini ha voluto donare a tutti quanti i bambini intervenuti.